Sono tornato, sono tornato su YouTube e torno contemporaneamente sul canale a pubblicare un nuovo video in contemporanea la vittoria della Provercelli per 2-0 in casa del Fiorenzuola. Andiamo a vedere i risultati e poi parliamo di questa partita che è una partita fondamentale per la Provercelli, fondamentale perché non vincevamo da troppo tempo, non vincevamo da troppo tempo, eravamo in un turbinio di situazioni negative, infortuni, sconfitte, l'esonero di scienza che è stato un esonero giusto, preso correttamente dalla società e quindi sono molto contento di questa vittoria che dà una boccata di ossigeno perché la Pro torna in zona playoff, siamo decimi, 23 punti e soprattutto abbiamo il sesto posto a un punto, il quinto a 7, quindi bisogna lavorare con l'obiettivo di risalire piano piano la china. Battiamo 2-0 il Fiorenzuola grazie ai gol di Bunino e di Rolando, che finalmente torna ad essere Rolando decisivo, che conoscevamo l'anno scorso, che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso campionato. Che dire, i risultati, stavo dicendo dei risultati, i più importanti sono certamente lo 0-0 fra Padova e Sud Tirol, che conferma il Sud Tirol primo in classifica e lo divinizza con questo titolo d'inverno, che appunto permette ai tirolesi di guardare tutti dall'alto, anche dopo la sosta natalizia. Cade Renate, cade 1-0 a Crema contro la Pergolettese, che si conferma squadra tra alti e bassi incredibili, perché batte noi 4-0, poi perde 6-0 a Salò, poi batte Renate, insomma una squadra molto molto particolare e per concludere il giro dei risultati più importanti fa paura al 4-1 dell'Ecco in casa del Seregno. Torno su YouTube, in contemporanea lo diceva la vittoria da Provercelli e soprattutto un esordio vincente di Mr. Franco Lerda, che è subentrato lunedì a Scienza, giustamente esonerato dopo l'ennesima sconfitta della scorsa settimana per Duono contro la Trestina, e è un Franco Lerda che ha messo giù la squadra che avrebbe dovuto mettere giù, nel senso che giocatori nei loro ruoli, semplice e ordinaria amministrazione, si va a far gol e si si difende in 11 e si attacca in 11. Come deve essere? Qualcosa si era rotto nello spogliatoio con Mr. Scienza, ed è giusto che adesso i ragazzi si mettono a totale disposizione del nuovo allenatore, settimana prossima le partite saranno fondamentali, la Pro ospita in casa al Mantua e dobbiamo tornare a vincere fra le mura amiche del Piola. Noi abbiamo perso in casa troppe partite, peraltro mi pare 4-5 sconfitte consecutive a Vercelli e affrontiamo un Mantua che è in crisi di risultati, terzo ultimo in piena zona play-out, è un'opportunità da non farci scappare e poi concluderemo la settimana dopo il 2021 calcistico in casa dell'Ecco per poi ripartire dopo la sosta con tutto il girone di ritorno e in particolar modo la prima sfida, quella contro la Pro sesto, il derby tra virgolette e il gemellaggio fra le nostre tifoserie. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Pro!